E noi ritorniamo insieme, sempre sotto il segno dei fiori, perché nel frattempo che stavamo chiacchierando con il nostro amico e collaboratore Orazio Arminlotta, ci giunge da Burgio, provincia di Agrigento, questa splendida rosa, dovrebbe essere una rosa, con regimi se sbaglio Giuseppina, ad inviarcela appunto è proprio Giuseppina da Burgio Agrigento, che non so se è la stessa persona che ci ha inviato la rosa rossa, perché la mattina qui negli studi di Padre Pio TV è molto concitata, uscito Orazio Arminlotta, che salutiamo e ringraziamo ancora, stanno facendo il loro ingresso in studio proprio in questo momento, donato Pio Palumbo, presidente della Proloquo di Rignano Garganico, ed Enza Bergantino, imprenditrice digitale e partner di Jacques Leroy. Buongiorno a voi, messi e madame, grazie per essere qui con noi, grazie per esservi svegliati presto stamattina, anche voi per esservi messi in auto, però vi trovo belli, radianti, splendenti, pronti per dare sapore a questo territorio con un bellissimo evento che si terrà sul Gargano, a Rignano Garganico dal 2 al 3 giugno 2023, per cui ci siamo quasi. Come si chiama questo evento? Perché si chiama così? Come è nato? Lascerei il primo intervento in questo senso al presidente della Proloquo di Rignano Garganico, Donato Pio Palumbo. Ciao Donato. Ciao Tony, grazie per averci invitato e grazie per l'ospitalità. Kunz nasce da un'idea di quattro amici, insomma, la Proloquo di Rignano è composta soprattutto da giovani. È un termine dialettale che significa condire. Condire nella nostra cucina lo usiamo tutti i giorni per condire un piatto semplice, per condire un pancotto, per condire la mucisca, come il piatto tipico di Rignano, ma ha anche un altro significato. Condire la nostra vita con tutto ciò che è bello, la storia, la cultura, il buon cibo, le persone, i sorrisi, quelli che vi aspetteranno a Rignano il 2 e il 3 giugno per il Kunz, un evento che ha un programma ricchissimo di iniziative, a partire dalle escursioni naturalistiche nel Parco Nazionale del Gargano e verso Grotta Pallicci. Però non ci svelare tutta adesso, perché ecco, poi la mattinata ce la prendiamo anche un po' con calma. Anche noi, in realtà qui c'è stato un gran fermento stamattina, lo dicevamo prima, però non ci bruciamo tutte le tappe, anche perché poi ci devi spiegare anche che cos'è la mucisca. Padre Pio TV è seguita dal nord al sud Italia, ma anche da Francia, Germania, Svizzera, Austria, per cui ecco, magari non tutti sanno che cos'è la mucisca, per cui ci ritorniamo subito. Intanto do la parola ad Enza Bergantino, come dicevamo, imprenditrice digitale e partner di Jacques Leroy, perché c'è un doppio motivo per cui è qui. Intanto perché come partner di Jacques Leroy è un'imprenditrice digitale e ha curato l'immagine e la comunicazione di questo evento. Abbiamo visto in sovrimpressione prima anche la grafica relativa a Kunz, il Gargano Food Fest, di cui stiamo parlando. Eccola qui, ringrazio la regia per avercela riproposta. E poi perché lei lavora a Parma, in Emilia Romagna, stamattina siamo legati a doppio filo all'Emilia Romagna, perché l'ospite che vi ha preceduto ha vissuto tanti anni a Modena, pur essendo di Monte Sant'Angelo. Invece Enza, che vive e lavora a Parma da diversi anni, è originaria di Rignano Garganico, per cui è anche bello che ci sia una sorta di ritorno, per quanto temporaneo, di cervelli. Ecco, più che cervelli in fuga, direi cervelli in movimento. Quindi Enza, grazie per averci dedicato anche tu il tuo tempo in questi giorni molto concitati che vi stanno portando alla realizzazione di questo festival. Allora, che sapore ha avuto questo ritorno alle origini attraverso questa bellissima iniziativa? Guarda, innanzitutto grazie per averci ospitato. Con sé è bello. Quando Donato Pio e Salvini hanno chiamato per chiedermi se volevo dargli una mano all'inizio a realizzare questa cosa, è stato bellissimo. Io è la prima volta che faccio un qualcosa, che restituisco qualcosa alla terra che poi mi ha dato i Natali. Ho vissuto più tempo fuori che a Rignano, quindi tornare è sempre bello. Tornare poi con delle idee, tornare in un posto in cui, da cui, dal quale io sono nata via, che era un po' vuoto, trovarlo riempito e poi trovare un contenitore. Perché per noi Kunze è diventato un contenitore, un contenitore di mille, milla cose. Perché ogni giorno, nella creazione di questo programma, c'è stato aggiungiamo, facciamo. Abbiamo coinvolto anche un'altra associazione, quindi è bellissimo, è un fermento. Questa è la prima edizione, ci aspettiamo grandi cose dalla prima edizione. Stiamo già pensando a quello che potrebbe essere il 2024, quindi non è one shot. Dovrebbe, deve diventare l'evento più importante del cartellone pre-estivo del Gargano. Del Gargano interno però, non del Gargano mare. Tutti pensano, cioè io per tanti anni ho vissuto dicendo sono garganica, ah che bello il mare. No, facciamo vivere un territorio che non è fatto di costa, ma è fatto di tanti, tanti ettari di bosco e di campagne. Siamo tanto d'accordo con te che noi da qualche mese stiamo proponendo, proprio il martedì, una rubrica sulle orchidee spontanee del Gargano con l'ospite di cui vi parlavo prima, Orazio, che ci porta alla scoperta dei meandri più segreti dell'entroterra garganico. Per cui siamo in perfetta sintonia. E poi c'è il cibo, c'è il vino, ci sono i prodotti tipici. Tu sei un'esperta di food and wine marketing. Quanto il vino e il cibo sono ecco dei collanti straordinari tra le persone, magari anche tra sconosciuti, tra perfetti sconosciuti. Ma secondo me il cibo e il vino fanno parte proprio della nostra cultura di italiano. Cioè ci distinguono per italianità. Davanti a tutti i contratti o qualsiasi cosa un italiano fa, li fa a tavola, davanti a un bicchiere di vino e di cibo. Quindi sono imprescindibili nella testa di una persona. Qualsiasi cosa tu pensi, la pensi legata a... Beviamoci un bicchiere di vino, mangiamoci qualcosa insieme. Cioè l'italiano è quello che ti invita a casa, che è una cosa strana. Perché quando poi giri all'estero, inviti qualcuno, ti guarda un attimino così e dice perché questo qua mi sta invitando a casa sua a mangiare. Per noi invitare a casa nostra a mangiare una persona significa ti accolgo, sei un amico, ti faccio conoscere quello che sono. Poi è bello poter raccontare la diversità di tutto. Quindi Kunz deve diventare questo, deve diventare un racconto. Ed è un racconto, sarà un racconto. Sarà un racconto, lo vedete già nella grafica. Abbiamo usato i quattro prodotti tipici che poi Donato Pio approfondisce bene. Però vogliamo che diventi proprio questo. Deve essere uno storytelling, uno storytelling che racconta quello che è la forma dietro, che vediamo in nero. Citaci tu stesso i simboli che accompagnano le lettere, perché Donato ha già il compito di spiegarci quello più difficile. La forma è stata... La forma è nata un po', l'idea di rimarcare la parola Kunz quindi metterla in grassetto, in corsivo, cioè scusami, in maiuscolo, perché deve essere visibile e deve rimanere nella testa. Poi una parola l'abbiamo scelta insieme, abbiamo scelto un termine corto che fosse in dialetto, ma che fosse pronunciabile comunque anche in italiano, anche se magari non ne colli subito il significato, però ti resta in mente. È bello, è musicale, e abbiamo giocato un po' con questo Archimboldo style, con tutti i nostri... so, quello che ci rappresenta davvero. Il caciocavallo, in questo caso impiccato alla C, la muscisca che contorna la U, l'asparago, un prodotto tipico negli ultimi vent'anni, molto 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 importante per tutta quella che è la parte agricola del territorio del comune di Rignano Garganico, e la capra garganica che, insomma, è probabilmente una delle cose più fotografate insieme alle mucche quando qualcuno sale su dalla montagna, questi animali, sì, che vivono liberi e che si arrampicano, sono molto molto belli. Bene Donato, è arrivato il momento di svelare che cos'è questa muscisca. Bene, la muscisca, l'etimologia del termine viene dall'arabo, mochamed, cosa dura, perché appunto la muscisca è un alimento che viene essiccato, quindi è duro da masticare, questo non significa che non sia buono, anzi. All'epoca veniva preparata perché durante i periodi di transumanza era difficile portare con sé prodotti che non deperissero, quindi la muscisca secca, essendo disidratata, poteva rimanere con appunto i pastori per un lungo tratto del sentiero. Quindi è carne essiccata di che cosa? Allora, prevalentemente di pecora, però negli ultimi anni, visto che sia il sapore molto forte della muscisca, c'è anche una versione di vitello, condita nella nostra ricetta tipica rignanese con seme di finocchio, peperoncino piccante e sale. Molto bene, la cosa ci sta facendo venire anche un certo languorino, per cui vi invitiamo a scoprire questi prodotti a Rignano, il 2 e il 3 giugno, donato telegraficamente i passaggi clou del programma, perché in tv il tempo vola e noi siamo già arrivati ai saluti finali. Certo, allora partiremo la mattina con due escursioni, come dicevo, una nel Parco Nazionale del Gargano, faremo del foraging alla scoperta di erbe spontanee, il secondo giorno verso Grotta Palicci, alla scoperta di Grotta Palicci del calciocavallo podolico che da poco ha vinto l'Oscar dei formaggi a livello nazionale. Poi ci saranno dei convegni, uno sull'asparago, il percorso verso l'IGP e la lotta contro il capolarato, molto importante soprattutto nell'agro del tavolire delle Puglie. Il secondo convegno invece è sul digital food and beverage, vedremo la presenza anche di Tony, di Enza, ci parleranno un po' del digitale. Poi ci saranno vari laboratori sull'olio extravergine di oliva, sul nero di Troia, laboratori sui grani antichi, la pasta fresca delle nostre nonne, che saluto, ci sarà anche mia nonna a preparare la pasta fresca. Un saluto a tutte le nonne del Gargano, e a quella di Donato in maniera particolare. E poi ovviamente ci saranno i momenti in cui poter degustare queste bontà. Sì, ci saranno più di 30 aziende che nella piazza centrale prepareranno prodotti tipici dai più vari, street food garganico puro, dove tra musica, spettacoli, DJ set, e un tramonto spettacolare e mozzafiato sul tavolire delle Puglie. Ricordo che a Rignano Garganico è il balcone delle Puglie, renderanno proprio il Kunzio un evento fantastico. Ragazzi ci avete convinto, non abbiamo più nessun dubbio sul dove e come trascorreremo il ponte del 2 giugno, per cui tutti quanti a Rignano Garganico. Grazie per il vostro entusiasmo, per il vostro impegno, per questo evento straordinario, per cui ecco, questo non è un addio ma un arrivederci a Rignano il 2 e il 3 giugno. Grazie per essere stati con noi. Grazie Tony. Grazie Tony. Grazie. Linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo.